Ciao a tutti, sono Silvia Di Nicola, tengo per Omedix il marchio Marley e lo stiamo presentando, è veramente una piccola anteprima, questa che facciamo oggi qui da staff. Marley è un brand che nasce in America e ci hanno dato la licenza, è tutto però seguito dagli americani, quindi c'è Marley dietro la famiglia Marley, quindi Rohan Marley che è la nostra persona di riferimento, che segue insieme alla sua famiglia la qualità dei prodotti sia a livello acustico che a livello di design. I prodotti sono estremamente curati nei particolari, come potete vedere questa è una cuffia, tutti i materiali sono riciclati o comunque sono ecosostenibili, quindi si dà un'attenzione molto forte ai dettagli. Il riferimento a Marley lo ritroviamo nell'intarsi tra la pelle e il tessuto, il legno utilizzato è un legno certificato FSC dall'America, quindi in salvaguardia, quindi poi all'ambiente, anche la pelle è una pelle ecologica, è tutto, anche la plastica è riciclata, è tutto legato a una sostenibilità e cercare di essere il più verdi possibili. La famiglia Marley insieme al fatturato delle cuffie andrà poi devoluto una parte di questo fatturato, un'associazione che si chiama One Love Org di cui ritroviamo tutti poi i riferimenti anche nel packaging. One Love Org è un'associazione creata appunto dalla famiglia Marley che va in beneficenza, che fa delle operazioni di beneficenza a favore dell'ambiente, dei bambini e dei più giovani. Presentiamo queste cuffie che sono un inizio di una linea molto più ampia di quella che sarà la gamma Marley che vuole rappresentare uno stile di vita con tutti i valori che incarnano Marley e quindi quelli di unità, amore e empatia per l'ambiente. Iniziamo appunto con le cuffie che sono sia cuffie over ear che in ear, quindi gli auricolari piccolini che ritroviamo nel packaging, anche questo, anche nel packaging c'è un'attenzione altissima verso i dettagli, i packaging sono in materiale, in carta reciclata e vediamo l'utilizzo del legno ed è anche il cavo delle cuffie, è in tessuto, quindi la plastica utilizzata è minima, il tessuto è fatto in cavo intrecciato, nei colori che ricordano la bandiera dell'Etiopia e quindi Marley, ci sono i tre pulsanti con microfono, quindi compatibili con Apple per l'utilizzo con il cellulare o con qualsiasi altro dispositivo. I prodotti nascono in tre linee, sono la linea Gemmin, la linea Freedom e la linea Destiny e sono la linea Gemmin, una linea più giovanile e colorata come questa qui che vediamo qui e abbiamo appunto diversi diversi colori. La linea Freedom è una linea invece per un consumatore più consapevole, più attento, quindi è una linea più elegante e naturalmente di un prezzo più alto. E poi abbiamo la linea Destiny che è una linea semiprofessionale, la ritroviamo con delle Trench Town Rock, si chiamano, è la linea, le auricolari di altissima gamma, sono over ear, sono semiprofessionali quindi da DJ e hanno il noise control cancellation, quindi ci isolano assolutamente dai rumori esterni per un suono più vivo e più intenso. Le cuffie Destiny sono, o comunque tutte le cuffie, sono mirate per un controllo dei bassi e per suonare dei bassi molto potenti, quindi il suono è molto vivo per una musica reggae come Marley avrebbe avuto. Sia dalla linea entry level e quindi jamming che la linea Destiny il suono sarà molto caldo, molto vivo e semplicemente solo da provare. chi, al З Drew, asciugare del functionale. Grazie a tutti.